Il declino demografico preoccupa in Italia è ormai cronico. Le statistiche Istat degli ultimi vent'anni e le elaborazioni su base provinciale effettuate dal sole 24 ore parlano a livello nazionale di 6,8 figli ogni mille abitanti, il 27,7% in meno rispetto al 2002. L'Italia è ultima in Europa. Si va da un meno 40% della provincia di Barletta-Andriatrani a Parma, dove il calo è di sole il 13%. Oristano, la provincia dove si registra il tasso di natalità più basso, 4,6 nati ogni mille abitanti. Dalla crisi economica del 2008 in poi, soltanto Austria e Germania risultano in controtendenza. Cremona è all'84 posto in Italia, con un meno 21,4% dal 2002. Scelte legate al cambio dello stile di vita e al scarso sostegno alla natalità. Ne abbiamo parlato con Alessandro Rosina, docente di demografia e statistica sociale alla Facoltà di Economia della Cattolica di Milano. Tutte le carenze che riguardano gli strumenti, ad esempio come i servizi per l'infanzia, quelli che mettono in consenso la conciliazione tra lavoro e famiglia, se mancano fanno sì che appunto si rinuncia ad avere figli oppure si rinuncia a lavorare. E infatti noi siamo uno dei paesi con più bassa occupazione femminile. È stato fatto troppo poco per sostenere le politiche per l'infanzia? In Italia si è fatto molto meno rispetto agli altri paesi europei sia per le politiche che riguardano i giovani, le nuove generazioni, sia per le politiche familiari. Adesso con l'assegno unico universale si sta migliorando la possibilità di sostegno economico alle famiglie con figli, però c'è ancora molto da fare, ad esempio sul versante dei servizi. Quindi rispetto ai nidi la copertura in Italia nella fascia 0,2 è del 26%, quando l'obiettivo europeo da raggiungere nel 2010 era del 33% e Francia e Svezia sono già oltre il 50%. C'è una sorta di contrapposizione difficile da gestire. A livello mondiale la popolazione cresce in maniera eccessiva con un impatto ambientale molto forte, soprattutto per continenti come Asia e Africa, mentre in Europa c'è allarme per il calo demografico. Come conciliare le due tendenze? Questa natalità troppo bassa produce degli squilibri che diventano insostenibili dal punto di vista sociale e economico ed è questo che dobbiamo assolutamente cercare di evitare andando incontro alle scelte desiderate e di avere figli e la possibilità di realizzarle in senso pieno.